ciao amici e amiche di quinta dimensione letture bentornati qua sul mio canale benvenuti ai nuovi come sapete chi già mi segue ogni tanto metto anche un contenuto di crescita spirituale e oggi volevo fare appunto questo altro argomento molto molto importante che riguarda i codici sacri che ne ho tantissimi ragazzi come vi dicevo oggi propongo questo poi lavoreremo anche con le sette fiamme sacre con le meditazioni del giorno per ogni giorno della settimana i colori i vari diciamo colori di ogni raggio no delle sette fiamme sacre ci lavoreremo piano piano e oggi volevo appunto concentrarmi un po di più su questo codice sacro che come avrete visto dal titolo è il codice sacro 613 dell'arcangelo michele per chiedere la protezione va bene chiediamo la protezione fisica la protezione spirituale la anche la protezione psichica perché no comunque sia tutto un certo tipo di protezione che l'arcangelo michele ci donerà appunto per chi di voi lo sa comunque che il detentore del primo raggio che appunto il raggio blu così come è la sua spada blu di luce no l'arcangelo michele e quindi chiediamo proprio anche questa luce blu di avvolgerci di circondarci per darci questa protezione questa amorevole protezione colore blu va bene il codice sacro 613 va ripetuto 45 volte ragazzi questi sono codici sacri quindi 45 volte per 21 giorni se saltate un giorno dovete ricominciare da capo vanno recitati assolutamente con una convinzione molto grande con il cuore e con tutto voi stessi allora chiediamo che cosa gli chiediamo l'arcangelo michele quindi dicevo la protezione mentale fisica emotiva anche psichica ma anche se ti senti un po così un periodo magari un periodo un po sotto attacco anche da attacchi diciamo negativi di persone esterne che possono colpirci più gravi più o meno gravi insomma di qualsiasi entità siano anche leggermente accennati ma anche quelli più pesanti è l'arcangelo michele viene diciamo chiamato proprio per proteggere anche da questi brutti lavori diciamo che fanno certi personaggi oscuri è che piano piano tutte le forze di luce stanno comunque sia spazzando via non ci sarà più posto per questi per questi qua ti proteggerà da tutte le cose negative che ti circondano quindi devi farlo proprio con fede con tranquillità con tanto cuore con tanto amore come si fa il codice sacro praticamente un attimo prima di farlo e se lo facciamo insieme devi essere diciamo fare sempre i respiri magari tre bei respiri profondi poi cerchi di comunque visualizzare una luce una luce bianca no immagina l'universo rilassati chiudi gli occhi chiami anche chiami a te l'energia l'energia degli angeli degli esseri di luce è in modo che la tua frequenza vibrazionale possa anche essere un po diciamo innalzata da loro che ti aiutino a concentrarti essere più connessa o connesso proprio con l'universo è cerca di lasciare andare tutte le tue paure i tuoi pensieri le tue preoccupazioni affidati proprio alla luce universale è alla luce dell'universo chiama i tuoi angeli chiama gli esseri di luce chiamali come vuoi ringrazia sempre l'universo intanto perché il ringraziamento è sempre una cosa fondamentale poi alla fine faremo anche sempre il solito tre volte grazie è grazie 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 apriti apriti a ricevere immagina già che che hai già ricevuto quello per cui chiedi non devi avere un dubbio che questa cosa non funzioni devi essere assolutamente nella certezza tua personale che tutto questo sta funzionando ok che è già fatto quindi lo devi ripetere 45 volte per 21 giorni consecutivi senza alcuna interruzione mi raccomando se ti dimentichi niente da fare ricominci da capo segnatevi tutto segnatevi quando cominciate segnatevi anche una con una spunta le 45 volte che devono essere 45 non 44 46 45 se volete venite su questo video ve lo fate con me perché io le ho già pronte quale 45 e andate sopra la mia voce così senza che avete lo stress del conteggio magari sapete che sopra di me sono già 45 volte quindi sopra la mia voce è così non dovete contare oppure vedete voi come fare allora per ricordarsi durante questi 21 giorni di questo codice sacro potete anche oltre recitarlo che allora io dico sempre diciamo quando lavoro anche con queste cose negli ambienti energetici praticamente allora potete anche scriverlo su un post it per ricordarvelo ogni tanto l'importante è che comunque allora potete farlo di giorno pomeriggio o sera ma la sera sarebbe meglio ma no se lo fate di giorno non funziona funziona lo stesso però la sera perché perché andiamo verso il sonno ok prima di andare a dormire quindi è più probabile che un imprinting energetico rimanga anche durante la fase del sonno in voi se lo recitate poco prima in quella fase un po così di pre addormentarsi però insomma non è che è stato detto visto o come feedback ci sia che diciamo che sia assolutamente da fare la sera ecco se no ve l'avrei detto questo si fa la sera va bene sapete come sono io come lavoro io la precisione massima assoluta anche troppa quindi allora se ce la fate se siete sole dipende pure perché se dormite con qualcuno insomma ecco non so adesso vedete voi la vostra vita però sarebbe energeticamente così insomma la sera almeno vi accompagna anche nel sonno e potrebbe avere un'impronta energetica maggiore poco prima di addormentarsi però ripeto tranquilli non succede niente fatelo anche la mattina o il pomeriggio dipende dalla vostra vita chi avete in casa è perché so benissimo che comunque non è sempre facile fare tutte queste cose quando in casa comunque ci abbiamo figli questo quell'altro persona quello che suona quell'altro no e quindi insomma la vita è questa è così la quotidianità è questa no abbiamo tutti delle persone abbiamo tutti da fare quindi l'importante che poco prima di farlo comunque ti rilassi scarica via tutto pensa questo potente decreto pensa che già è tutto diciamo quasi se vogliamo fatto il decreto comporta questo questo codice sacro che comunque si è anche un decretare allora c'è una richiesta da recitare va bene quindi prima c'è la richiesta che io metto sotto nell'info box ve la metto si fa la richiesta e poi il codice quindi prima la richiesta e poi 45 volte il codice e poi se è sera dormite se è giorno fate altro chiuso si apre e si chiude allora la richiesta io inizierei allora intanto vi dico come abbiamo fatto anche per altri video miei vi metto poi sotto un messaggio dell'arcangelo michele cioè michele sotto tutti qui qui e qui carta 1 carta 2 carta 3 dopo ve le metto più dopo vi metto anche insieme all'arcangelo michele un mio sempre un messaggio dei miei oracoli sempre canalizzati insieme al messaggio di michele quindi facciamo prima questa richiesta di quello che vogliamo all'arcangelo michele poi iniziamo a recitare che ho pronto qui il conteggio per voi sono 45 quindi 45 decidete quando partite per 21 giorni ripeto se dimenticate si ricomincia da capo ragazzi è personale così ve lo dico prima vista le domande che poi mi fate non è per un'altra persona è per voi è per te va bene lo fai per te ho delle cose da fare anche per gli altri che ripeto piano piano ve le metto nel tempo è con calma e pazienza così funziona il lavoro energetico non c'è bisogno di buttare su tutto a più di pur dimettere no io non faccio queste cose qua non faccio pur dimettere ok mettiamo quando è il momento allora quindi tu intanto adesso rilassati comunque sia fai dei respiri e da qui parte poi il pezzo del video che tu potrai tutti i giorni andare a vedere parlare sopra me o te lo fai da sola o da solo non c'è nessun problema il mio è già ovviamente contato da 45 ma se tu hai che ne so anche tipo questi braccialetti diciamo no come questi che si usano adesso queste non sono 45 quindi però ci sono anche le mala no quelle tibetane che hanno questo tipo di cosa come recitare un rosario che fai così no e ogni perlina è un numero quindi conti 45 puoi farlo anche così è però deve essere già 45 preciso tu sai benissimo che poi devi finire no dove devi finire però ecco io ora ce l'avete già contato con me quindi fate voi come volete fare come vi trovate bene partiamo con la richiesta poi facciamo 45 volte il codice sacro e poi tiriamo giù un messaggio per te dall'arcangelo michele con tutta la potenza della mia intenzione attivo qui e ora l'energia magnetica del codice sacro 613 dell'arcangelo michele ringrazio te arcangelo michele ti faccio questa mia richiesta a cuore aperto è fatto è fatto è fatto grazie 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 6136136136136136136136136136136136136136136136136136136136136136136136136136136136136136136136136136136136136136136136136136136136136136136136136136136136136136136136136136136136136136136136136136136136136136136136136136136136136136136136136136136136136136136136136136136136136136136136136136136136136136136136136136136136136136136 613 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 713 713 713 713 713 813 813 813 813 813 913 913 1013 813 913 913 1014 1015 1115 1115 1215 1215 1315 1415 1415 1013 1215 1215 1315 1315 1315 1416 1517 1517 1617 per chi ascolta e per chi sceglie, per chi sceglie la carta 1, per chi sceglie la carta 2, per chi sceglie la carta 3, scegli pure, allora vediamo per chi ha scelto la prima carta che cosa vuol dirti l'arcangelo michele oggi, sei al sicuro, ti sto proteggendo da energie inferiori e veglio su di te, sui tuoi cari e sulla tua casa, quindi qua ci dà già un messaggio di speranza l'arcangelo michele perché in un qualche modo o stai già chiamando o comunque tanti di voi hanno già una connessione particolare da quello che sento da voi con l'arcangelo michele che ricorda anche il protettore comunque delle forze dell'ordine, comunque protegge anche tutto ciò che è meccanico, le automobili, tutte queste cose qua e il suo colore chiaramente è il blu, qui ti dice che sei già al sicuro e ti sta già proteggendo da energie inferiori, ecco quindi qui qualcuno magari aveva anche paura diciamo comunque sospetto di essere stato colpito da qualche lavoro magari di cose negative eccetera o per te o per insomma le persone vicine a te, comunque hai avuto forse tu che ascolti la carta 1 magari qualche dubbio di questo tipo e qui l'arcangelo michele ti dice che comunque ti sta proteggendo da energie inferiori, tu continua comunque sempre con questo codice sacro 613 perché rafforzi fortemente l'energia e rafforzi anche la chiamata all'arcangelo michele e tra l'altro vi ricordo sempre di ringraziare, ringraziate sempre e quindi qui la 1 è sei al sicuro e vediamo per te in te si sono risvegliate capacità spirituale e psichiche 1717 allenamento e corpi spirituali più alti quindi qua abbiamo persone che si stanno evolvendo hanno già forse iniziato un certo diciamo discorso di evoluzione spirituale, cammino personale, questa crescita interiore quindi si sta innalzando i tuoi corpi spirituali quindi come ben saprai abbiamo questi corpi esterni no a noi che non c'è solo il corpo fisico e probabilmente questi corpi in questo momento si stanno allineando si stanno espandendo allineandosi tra di loro ai corpi spirituali più alti quindi i tuoi corpi energetici corpo mentale corpo no spirituale diversi corpi che abbiamo a partire anche dal corpo eterico in poi diciamo si stanno allineando i corpi spirituali più alti complice anche l'ascensione del pianeta terra che andiamo verso la quarta e la quinta dimensione quindi perché scelto la carta 1 comunque c'è proprio anche il cangelo michele che ci sta già dicendo sono presente sono qui e ti sto già proteggendo comunque da energie inferiori rafforzate il tutto mi raccomando con questo codice sacro se vi piacciono queste cose vi ricordo ne ho tantissime ve ne metto anche altre allora la carta 2 chi ha scelto il secondo messaggio arcangelo michele per la 2 ricordati chi sei sei un potente amorevole e creativo figlio di dio sei molto amato ci dice qua ecco qua qua è un messaggio proprio d'amore un messaggio che ti vuol dare dal cuore proprio l'arcangelo michele dicendoti che sei appunto una divinità un figlio di dio quindi anche tu sei un essere divino sei molto amato qui ti sta dando tanto incoraggiamento forse qui ci sono persone molto vedo lacrime qua dentro non so perché nella 2 sento e vedo lacrime quindi qua ti dice che il cielo ti sta amando tantissimo in realtà dovresti cercare di percepire questo amore va bene qui sei una persona comunque molto amata dal cielo quindi devi farti forza devi farti coraggio e ricordati chi sei perché sei anche potente perché è la divinità se tu risvegli questa divinità questa potenza vedrai che esploderà e capirei quanta forza hai in realtà vediamo un oracolo fai ogni giorno un piccolo passo per quello che vorresti qua c'è gente che va un po' aiutata incitata che si sente un po' tanto tanto giù eh quindi fai ogni giorno un piccolo passo per quello che vorresti 844 855 84 48 55 continua a lavorarci ecco qui sì qui c'è da lavorarci ragazzi qui comunque ci dice che c'è da continuare un certo lavoro eh ricordarsi chi è chi siamo chi sei e soprattutto non dimenticare mai l'amore dell'universo del reame angelico anche se non lo senti c'è quindi qui ci dice che ogni giorno fai qualcosina fai qualcosa per andare sempre avanti un piccolo passo basta però che sia costante che non sia proprio una volta al giorno recitare un codice sacro magari qualsiasi cosa ti faccia stare bene e ti fa sentire più connessa come persona eh anche alle altre dimensioni che ti aiutano molto amorevoli continua a lavorare qua ti dice continua a lavorarci così viene verrai fuori vedrai che ne verrai fuori da questo la stessa 2 insomma qua carta 2 c'è molta molta sofferenza devo dire allora però questo è un bellissimo messaggio che ti è arrivato di conforto eh perché hai scelto la carta 3 vediamo un po' perché hai scelto la 3 l'arcangelo michele dice intenzioni cristalline stabilisci con chiarezza ciò che desideri e focalizzati sul tuo obiettivo con fede incrollabile ci dice qua incrollabile quindi stabilire molto bene eh su che cosa ti vuoi focalizzare e che cosa desideri e poi rimani lì come un albero con le radici un tronco pam lì piantato lì sopra come il cemento e che niente e nessuno possa distogliere eh questa tua questo tuo desiderio prendi una decisione stabilisci chiaramente e vai e devi essere diciamo un bulldozer qui non ti devi far distrarre non farti convincere tu sai che cosa è giusto per te non permettere a nessuno di farti cambiare strada ok qua ti incita alla forza interiore l'arcangelo michele ok la chiarezza di quello che vuoi e molta forza interiore per non farsi comunque distrarre va bene la fede deve essere incrollabile ok perché sei tu che dai molta forza e aiuti poi la realizzazione di quello che vuoi se sei tu la prima persona che vacilla e non ha questa fede incrollabile che tutto è come deve essere e che quello che vuoi ti sarà dato non te lo da nessuno se tu non ci credi allora vediamo anche l'oracolo dei messaggi divini ecco qua è proprio in questo momento gli angeli sono coinvolti nella tua vita 554 544 55 45 44 cambiamenti in arrivo qua la 3 abbiamo dei cambiamenti quindi si sta andando verso un qualcosa è qui ti dice che gli angeli ti stanno aiutando sono coinvolti in un qualcosa che probabilmente molti di voi qua che ascoltano la terza carta hanno chiesto hanno chiesto un aiuto e qui ci dice che ci stanno lavorando il tempo divino ragazzi è un tempo che in realtà noi lo chiamiamo tempo per comodità tridimensionale ma in realtà è un concetto astratto il tempo non esiste nella tridimensione non c'è non cioè tant'è che l'io sono dice anche io sono qui e sono lì quindi questo è un concetto che va approfondito parlerò ancora comunque del maestro asceso san germain perché ce ne abbiamo tanto di materiale su cui possiamo lavorare anche molto concreto è senza parlare troppo di ali voli eccetera è proprio cose per la vita che ci possono aiutare affermazioni quotidiane molto belle molto importanti per le cose proprio della nostra vita qua comunque qualcuno ha chiesto sicuramente già qualcosa e qua ci dicono che gli angeli sono già coinvolti quindi ci stanno lavorando dicevo appunto il tempismo il tempo allora per tanti può essere prima per tanti può essere dopo va bene l'importante è questa fede incrollabile il tempismo il tempo non esiste in realtà perché il tempo divino è sempre perfetto non può essere un minuto prima minuto dopo fra un anno fra un mese è un concetto proprio per gli esseri di luce non esiste non c'è è impossibile non c'è quindi sempre perfetto ragazzi il tempismo divino non chiedete quando ma quando ma quando mai è un anno ma io e qua no siamo una concezione sbagliata questo è l'ego tridimensionale questo è un altro se che parla non deve parlare questo se deve parlare quell'altro di se il se superiore l'io sono deve parlare non deve parlare la persona che sta lì dice ma oh e no perché è un concetto che non esiste bisogna fare solo fare decretare fare pensare ok a quello che si vuole poi fai un'altra cosa non devi star sempre lì a pensare a quando ti arriva questa cosa tu lanci va bene lanci dici manifesti decreti perché decretare anche un manifestare a voce no è importantissima la voce quindi devi lasciar stare dopo che l'hai fatto basta devi pensare ogni minuto alla realizzazione di quello che hai chiesto perché siccome stai decretando allora adesso è ora che succede non funziona così è bisogna farlo con questa fede così incrollabile che non ti deve interessare punto tu devi essere proprio messo lì o messa lì proprio con la purezza assoluta del risultato che ci sarà innanzitutto e il tempo lo devi eliminare non esiste il tempo con il divino ragazzi ragazze io per oggi vi saluto con questi messaggi vi ripeto ve ne metterò tanti altri tra cui anche la meditazione dei registri akashici che sto preparando sarà guidata da me quindi devo montarla bene farla molto bene per voi e richiede appunto un po più tempo ma ve la metterò comunque sia tranquilli e perché la facciamo guidata poi abbiamo anche altri codici sacri abbiamo anche altri decreti le meditazioni dei raggi quante ne abbiamo ragazzi se volete qua ce ne abbiamo una marea intanto fatevi questo bel codice poi ne metterò penso il prossimo anche sull'abbondanza perché mi avete chiesto anche al coso di questo tipo sull'abbondanza anche materiale un aiutino è magari che possa sbloccarsi questo fluire energetico che è tuo per diritto divino è tanti hanno paura di chiedere o pensano che il denaro sia un'energia malevola o sporca non è così non è così dobbiamo sbloccare come un po abbiamo fatto anche con il decreto dell'arcangelo raze dove si sbloccava anche qualche voto di povertà eventualmente no quindi se hai fatto quello già va bene se hai fatto quello di raze dove c'era tra le tante cose che si chiedevano c'era anche di sbloccare un eventuale voto di povertà no quindi già va bene poi facciamo anche proprio un altro decreto proprio solo per l'abbondanza è ok per sbloccare questo fluire divino anche energetico di denaro che di cui abbiamo tutti il diritto e non dobbiamo sentirci sporchi o che cosa è quindi il denaro è un'energia è un'abbondanza è lo dice anche il maestro saint germain va bene poi ce l'abbiamo anche su io sono questa cosa metteremo anche quella faremo tutto ragazzi ragazze continuate a seguirmi mi raccomando spero che vi piacciono questi contenuti fatemi sapere poi le cosette vostre sui commenti anche di queste cose qua che abbiamo fatto ma come sta andando magari o chiaramente spiegazioni vi invito sempre ad ascoltare tutto il video perché cose che poi mi chiedete io l'ho detto già nel video e non ripeto ragazzi eh posso ripetere una volta ma dopo di che bisogna che vi impegnate anche già ascoltarsi un video è un segno di rispetto ascoltare il video e rispettare la persona che lo sta facendo perché la persona ha già dato le indicazioni non c'è bisogno di richiederle sotto perché non c'è voglia di ascoltare il video va bene qui questo tipo di energia non esiste quindi io vi ringrazio tantissimo veramente per seguirmi continuate a vedere anche altri video nel mio canale guardate anche nelle playlist che ho fatto queste belle cose messe tutte nelle playlist ben divise guardatevi un po' di informazioni mie anche nell'info box trovate scritto tutto sotto con la frecettina invito a iscriversi chi non si è ancora iscritto e ad attivare la campanellina vi aspetto prestissimo in un prossimo interattivo un abbraccio grandissimo a tutti e un grazie 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 all'arcangelo michele ciao a tutti